Don Ciotti, allora si conclude questa giornata con la presenza del Capo dello Stato, grande emozione da parte di tutti coloro i quali hanno partecipato, anche di coloro i quali hanno seguito attraverso la televisione questo grande appuntamento che il Libera ha organizzato all'Ocri quest'anno. Lo dobbiamo alle persone assassinate, al dolore, alle fatiche dei familiari, lo dobbiamo a tutti questi cittadini che hanno bisogno non tanto di parole ma anche di fatti. Il mio modo di fare memoria è veramente quello di impegnarci di più tutti. Il Presidente della Repubblica ha detto delle parole chiare, categoriche, ferme, di incoraggiamento da una parte ma anche di denuncia dall'altra. Io sono ancora una volta commosso nell'abbracciare centinaia di familiari. Il 21 cammineremo per le vie della Locride, prima per illuminare la bellezza di questa terra, le cose positive che si fanno, secondo per non dimenticarci che il cambiamento ha bisogno di ciascuno di noi, non di cittadini intermittenza ma di cittadini responsabili. Allora vogliamo rivolgerci alle telecamere, martedì è prevista questa marcia qui? Martedì sarà un altro braccio e avverrà in contemporanea in 4.000 luoghi d'Italia e questo mi sembra molto importante, ancora una volta sulla piazza in diretta televisiva ho letto questi ritori di nomi che devono entrare un po' di più nelle nostre coscienze. Chiediamo a ognuno di fare la propria parte, lo chiediamo alla magistratura, alle forze di pulizia che fanno, fanno molto, ma dobbiamo chiederlo alle altre istituzioni, dobbiamo chiederlo anche alle nostre coscienze. C'è una parte di responsabilità che competa a ciascuno di noi. Questo suo tour de force possiamo dire per la Locride in questa settimana? Beh, veramente i mesi che andò alla Calabria, ma già prima lo si faceva, non è quindi per l'evento, perché l'evento non è, ma Libera è un'associazione di associazioni e anche per valorizzare quelli che stanno facendo delle cose meravigliose qui, perché qui c'è della gente generosa, impegnata e coraggiosa, che non vorrei che si dimenticassimo mai di loro.